ehi qua è partita? si grande sarebbe, vai vieni, vieni vieni, vieni vieni, vieni vieni, vieni vieni assolutamente vieni Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo ti dici dove le cambrate e cosa? Si resiste all'acqua? Si, ci sta il involucro pure, si. Il involucro per sott'acqua. Ci sta quello da 5 metri e quello da 40 metri. Ma io ho quello che mi hanno dato loro. Ma dopo si accettano il ruolo. Si, allora va. Si, allora vissi che la parola ho da lì parla. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No.